Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo non video, non video perché questo è, come potete ascoltare, un podcast. Ho deciso di fare un approfondimento di Quest'oscure materie, una saga fantasy per ragazzi, scritta tra la metà degli anni 90 e il 2000, che però fa ancora parlare di sé. Infatti ad ottobre per Salani uscirà il libro della polvere, che è stato definito dallo stesso autore un equel, ovvero né un sequel né un prequel, ma una narrazione parallela, ambientato quindi nello stesso universo, ma il tempo sarà imprecisato, potrebbe essere contemporaneo o in un periodo non definito della storia. Comunque oggi invece, in attesa appunto di leggere il libro della polvere, parliamo e facciamo un piccolo focus su i tre romanzi che compongono questa saga. La bussola d'oro, probabilmente il capitolo più celebre della trilogia, l'inizio di tutto, la lama sottile e il cannocchiale d'ambra. Come forse saprete, la trilogia di Quest'oscure materie ha raccolto fin dalla sua prima pubblicazione sia critiche sia onori. Ha scatenato molte polemiche, è stata censurata, però è anche molto celebrata ed è tutt'oggi considerata una delle saghe fantasy imprescindibili, una delle più riuscite, una delle più importanti. Tant'è vero che ha vinto l'Astri dell'Ingren Award, ne ho citato uno solo tra i molti premi che ha vinto, che equivale in sostanza al Nobel della letteratura per ragazzi e per bambini. Vi do un piccolo assaggio, soprattutto per chi è completamente ignaro della storia che sta dietro la trilogia di Quest'oscure materie. Iniziamo quindi con la bussola d'oro. Ci troviamo ad Oxford, è una Oxford decisamente diversa rispetto a quella che noi conosciamo e ci troviamo in un'epoca simile a quella vittoriana, ma non proprio, non esattamente quella vittoriana. Infatti ha delle tinte steampunk, il che significa che in cielo ci sono i dirigibili e la tecnologia, che è una tecnologia a vapore, è un po' più vicina all'alchimia forse che alla scienza. Ma sicuramente la differenza più grande col nostro mondo è che esistono i daimon, che ovviamente sono un omaggio al daimon di cui parlava Socrate. Ora, se per Socrate il daimon era un genio, una voce interiore, un compagno che ci seguiva e ci guidava nel corso della nostra vita, per Pullman il daimon è una manifestazione fisica della nostra anima, sotto forma di animale. Quindi, come potete notare, non sono tanto diversi. L'unica ambiguità è che io, per approssimazione, ho detto che il daimon è l'anima. Secondo me il daimon di Pullman non è esattamente l'anima e questo si capisce molto bene nel cannocchiale d'ambra, solo che adesso non possiamo fare spoiler, quindi accontentiamoci di dire questo. Inoltre diciamo che ogni essere umano non si può separare dal proprio daimon, gli altri esseri umani non possono toccare i daimon di estranei, di altre persone, perché è considerato un'azione ignominosa, visto che il daimon è considerato una parte intima di noi stessi. Inoltre, se il nostro daimon muore, perché è ucciso da un altro essere umano, noi moriamo dopo pochi minuti. È rarissimo che si sopravviva al proprio daimon e chi sopravvive non è più lo stesso, perché è come se fosse stato svuotato, è un po' come ricevere il bacio del dissennatore, in un certo senso. Non è un caso che gli umani che sopravvivono ai loro daimon vengono definiti zombie, che direi che rende bene il senso di quello che succede. Considero l'invenzione del daimon una delle trovate più riuscite dei romanzi. Il rapporto che instaurano questi esseri con i propri esseri umani è meraviglioso ed è una bella metafora di cosa significa convivere con se stessi, perché in sostanza Pullman scinde l'identità delle persone e descrivendo il rapporto che ogni essere umano ha col proprio daimon, ovviamente descrive perfettamente il rapporto dialettico e spesso contraddittorio di odio e di amore che abbiamo con le nostre contraddizioni, con la nostra identità. Ad ogni modo, in questo mondo quasi magico, ma non proprio magico, vive l'Ira Belacqua, che è la nostra protagonista. Una protagonista fantastica, anticonvenzionale, assolutamente imprevedibile, intelligente e la caratteristica che la descrive meglio è bugiarda. E voi potete immaginare ad una protagonista negativa, in realtà non è proprio una protagonista negativa, perché l'Ira è una monella. D'altra parte però ha anche 11 anni, quindi le è assolutamente concesso di essere monella. Il fatto che sia bugiarda in realtà è una caratteristica che viene confermata per tutta la trilogia, che lei usa a suo vantaggio, ma non in maniera cinica, ma in maniera strategica, in maniera furba. L'Ira è costretta a mentire perché è una bambina curiosa che cresce in un mondo accademico. Infatti, l'Ira vive al Jordan College, che è un istituto universitario di ricerca. Quindi voi direte, cosa ci fa una bambina di 11 anni in un posto del genere barbosissimo per lei? Perché è rimasta orfana e i genitori di origine nobile hanno predisposto così, cioè hanno predisposto che la sua infanzia avvenisse al Jordan College. Ovviamente il suo primo istinto è quello di scappare da una realtà del genere, perché lo studio non è una delle sue priorità. Le sue priorità sono giocare, scoprire, vivere insomma una vita normale, una vita da bambina. Il problema sopraggiunge nel momento in cui Lira, che è una bambina estremamente impertinente, estremamente curiosa, si ritrova ad assistere, per una serie di circostanze che ovviamente non vi dico, ad un incontro tra accademici, in particolare tra i rettori dell'università, i docenti dell'università, e suo zio Asriel, che è un esploratore. Un esploratore che viene a fare il resoconto dei suoi viaggi, delle sue scoperte scientifiche, appunto al Jordan College. Le si ritrova ad origliare questo incontro e scopre l'esistenza della polvere. La polvere è un concetto fondamentale, perché rappresenta proprio la materia oscura, a cui si rifà il titolo. Perché viene chiamata materia oscura? Perché ovviamente nessuno sa bene che cos'è. Lord Asriel, che è uno dei protagonisti appunto della narrazione, nonché zio di Lyra, è un uomo intrepido, ed è deciso a tutti i costi a scoprire cos'è questa polvere, e soprattutto come funziona. In particolare viene detto, vengono dette due cose principali sulla polvere all'inizio, perché rimarrà un mistero per moltissimo tempo. Solo del terzo romanzo si capirà bene che cos'è la polvere, e anche in quel caso non proprio tutto, non si dirà proprio tutto, tant'è vero che non mi stupisce che il libro in uscita ad ottobre si chiami proprio il libro della polvere, perché ci sono moltissime cose da dire su queste particelle. Dicevo, sulla polvere si possono dire due cose. La prima è che attraverso degli strumenti di osservazione particolare, attraverso delle lenti, perché ad occhio nudo questa polvere non si vede, si osserva che essa si deposita sugli adulti, in particolare attorno agli adulti, e non invece sui bambini. Questo porta in parte a pensare che la polvere sia legata in un certo senso al peccato originale, e non si depositi sui bambini proprio perché i bambini sono innocenti. L'altra cosa che si dice sulla polvere è che essa è in qualche modo collegata a dei passaggi che portano a mondi paralleli, a mondi diversi, quindi la polvere in un certo senso potrebbe essere utile per scoprire nuovi mondi. Capirete bene che entrambe le caratteristiche della polvere sono estremamente pericolose. Pericolose perché il fatto che la polvere sia collegata in parte al peccato originale ne fa un argomento molto scottante per la Chiesa, che in questo libro è estremamente potente e si chiama Magisterium. Come potete immaginare, la Chiesa vuole ottenere il controllo sullo studio della polvere, perché la percepisce come qualcosa di peccaminoso, essendo legata ovviamente al peccato originale, la considera in un certo senso malvado. Inoltre il fatto che la polvere in un certo senso sia collegata anche all'accesso a mondi diversi è altrettanto pericoloso per la Chiesa, perché in questi mondi potrebbe non esserci la Chiesa, potrebbero essere dei mondi che in qualche modo contraddicono la dottrina della Chiesa, come per esempio l'esistenza di Dio. A contendersi lo studio della polvere con la Chiesa però c'è la scienza. La scienza che in questo libro è rappresentata non tanto dagli accademici del Jordan College, che vengono definiti un po' come degli esseri barbosi e pieni di inedia, quanto dagli esploratori. La figura dello scienziato nei libri di Pullman è strettamente legata, strettamente intrecciata e si identifica con quella degli esploratori. Questo perché? Perché il sapere scientifico è legato all'esperienza. Il metodo scientifico ottimale è quello empirico, cioè quello che si basa sui fatti, sulle osservazioni. E per osservare, per fare esperienza di ciò che ci circonda, bisogna essere appunto dei navigatori, dei viaggiatori, degli avventurieri. Esattamente come Lord Asriel, che infatti rappresenta in tutto e per tutto il secondo schieramento, che si fronteggia contro la Chiesa per la polvere, per sapere che cosa diamine è questa polvere. In mezzo a tutto questo ci sarà Lyra, Lyra che sarà ben contenta di gettarsi in queste peripezie, perché lei appunto si annoiava mortalmente al Jordan College, quindi sarà ben felice di imbarcarsi in questa impresa. Ora, la narrazione di Pullman è solo apparentemente avventurosa, nel senso che dietro appunto a questa avventura si cela un tessuto simbolico molto ricco e la natura del romanzo è estremamente intertestuale. Cosa vuol dire intertestuale? Che si citano moltissimi altri testi, in particolare il titolo rimanda a Il Paradiso Perduto di John Milton, a cui Pullman si rifà non soltanto per il titolo dell'opera, ma per tutta l'opera, cioè Il Paradiso Perduto è proprio l'ispirazione di queste oscure materie, ne è il riferimento primario. Inoltre, probabilmente l'avete già sentito dire, questo oscure materie è stato definito l'Antinarnia. Come penso saprete, la saga di Lewis è vista da molti come una propaganda cattolica, un po' anche sessista e reazionaria. Quindi la trilogia di Pullman, al contrario, vuole essere appunto una risposta a tutto questo, tant'è vero che se la saga di Lewis viene definita appunto apertamente, dichiaratamente cattolica, quella di Pullman viene definita assolutamente, e lo è, anticlericale. Se la trilogia di queste oscure materie dovesse avere un sottotitolo, secondo me sarebbe contro il fanatismo. Diciamo che a dominare i suoi romanzi di Pullman vi è una sorta di spirito positivistico. Infatti, la scienza ha un ruolo di primo piano. Come vi ho detto prima, per scienza intendiamo appunto questo metodo empirico, cioè l'acquisizione della conoscenza attraverso l'esperienza. Ecco perché c'è tutta questa attenzione verso i viaggi, l'esplorazione di mondi diversi, di mondi altri. E tutto questo quasi automaticamente si oppone alla dottrina e alla fede, perché la dottrina e la fede sono delle verità indiscutibili, mentre la ricerca, l'esplorazione, l'incontro con il diverso si basano proprio su un'apertura mentale che non accetta preconcetti, non accetta verità preconfezionate. Proprio la ricerca della verità è un tema fondamentale. Si veda infatti l'aletiometro, il famoso aletiometro, che è uno strumento, un lettore simbolico, che funziona attraverso la polvere, che viene donato all'ira dal rettore del Jordan College, che solo lei può leggere, solo lei può utilizzare. Qui si apre una parentesi sulla predestinazione, cioè sul fatto che purtroppo anche la trilogia di Pullman, diciamo, è nel solco della protagonista che è il prescelto. Questa cosa, diciamo, è un po' debole a livello narrativo, perché perché dovrebbe essere il prescelto? Non si capisce bene, è un po' una forzatura di cui cadono vittima parecchi fantasy. Forse l'unico che è riuscito un po' ad uscire da questo impasse è Harry Potter, perché, come sapete, J.K. Rowling su questa storia della predestinazione ci ha messo una toppa con la profezia, che ha voluto, un po' per ironia della sorte, che fosse il caso a scegliere, perché poteva essere Harry o poteva essere anche Neville. Chiusa questa parentesi, torniamo all'aletiometro, il cui nome deriva anche abbastanza esplicitamente dal greco antico aleteia. Aleteia vuol dire, appunto, verità. Ora, l'aletiometro, che è un'altra invenzione geniale di Pullman, secondo me è il simbolo per eccellenza di queste oscure materie, perché è a metà strada tra la scienza, perché comunque l'aletiometro è uno strumento scientifico di conoscenza, e però ha anche una sorta di natura spirituale. Infatti, il funzionamento dell'aletiometro avviene attraverso la polvere. La polvere ha una natura scientifica, comunque si tratta di materia, però ha anche un funzionamento misterioso, quasi spirituale. Non voglio dirvi troppo, perché vi rovinerei assolutamente la sorpresa, però quello che vorrei farvi capire è che l'aletiometro rappresenta... o io ho dei problemi a pronunciare alletiometro, non so se avete notato. Comunque l'aletiometro rappresenta un po' la duplice natura di questa trilogia. Che se da un lato è assolutamente anticlericale, dall'altro non è per niente antireligiosa. Ed è con questo pensiero che vorrei concludere la parte non spoiler di questo approfondimento, cioè facendovi capire un po' qual è la filosofia di fondo di Pullman, almeno secondo la mia interpretazione. Allora, Pullman ha voluto scrivere una trilogia che mettessi in scena uno scontro, uno scontro epocale, che fa parte comunque della nostra storia e che tutti noi ben conosciamo, tra scienza e chiesa. Sia il Magisterium, infatti, ben rappresa, tanto dalla signora Colter, che molti di voi probabilmente ricordano con le fattezze di Nicole Kidman, che l'ha interpretata nel film, con il suo spaventoso scimiotto dorato, ovvero il suo daimon senza nome, sia gli scienziati esploratori, diciamo così, capitanati e ben rappresentati anche qui dalla figura di Lord Asriel, il nostro Prometeo. Dicevo, entrambi gli schieramenti vogliono avere il controllo sia sulla natura della polvere, quindi scoprire che cos'è, sia sul suo utilizzo. Quindi, per cosa utilizzare la polvere? per avere ancora più potere, nel caso del Magisterium, e mantenere un controllo sul nostro mondo e sugli altri, o per, come nel caso di Lord Asriel, riuscire a compiere un'impresa che nessuno ha mai compiuto prima, cioè appunto scoprire che cos'è questa polvere e utilizzarla a proprio vantaggio. Quindi, come potete notare, entrambi i discorsi sono i discorsi di fanatici, cioè entrambi gli schieramenti adottano delle misure assolutamente immorali per raggiungere i propri scopi. Cioè, non pensate che la scienza, in questo caso, essendo anticlericale, perché comunque Lord Asriel vuole agire in maniera contraria alla Chiesa, perché vuole agire da solo e per fini diversi rispetto a quelli della Chiesa, ma non pensate che per questo motivo sia un personaggio positivo e che agisca nel solco del bene. Assolutamente no. Anche Lord Asriel, così come la Chiesa è disposto a spingersi oltre qualunque etica, a prendere delle decisioni anche scelerate, a utilizzare la violenza per raggiungere i suoi scopi. Quindi, la filosofia di fondo di queste oscure materie non è assolutamente semplicistica. Come vi dicevo, la polvere ha un aspetto spirituale che è diverso da dire religioso. Perché la religione è un'ideologia, cioè è un costrutto, è un insieme di regole precostituite. Questo non significa però che i valori religiosi, in particolare i valori cattolici, siano sbagliati perché la religione agisce in maniera sbagliata. Tant'è vero che c'è un terzo schieramento. Cioè, oltre a Lord Asriel e la signora Colter che rappresentano appunto il Magisterium, ovvero la Chiesa e la scienza nel caso di Lord Asriel, c'è l'ira. C'è l'ira e i suoi alleati che sono tanti, c'è Serafina Peccala, ci sono gli orsi corazzati e molti altri che poi si aggiungono. Ed è questo terzo schieramento che noi seguiamo. È l'ira che ci identifichiamo e lei non è una fanatica, lei anzi cresce e apprende e impara che il fanatismo è sbagliato e fa sua una sua morale che è una morale umanistica ed è quella che sicuramente Pullman vuole trasmettere. La sua trilogia non è altro che una risposta alla metaforica morte di Dio. Come dire, è vero che viviamo in un mondo, in una contemporaneità in cui effettivamente l'assenza di valori che la religione in qualche modo proponeva si fa sentire. e allora Pullman dice secondo ovviamente il suo credo, secondo la sua filosofia che la risposta alla morte di Dio non è un'assenza di valori ma è una morale appunto che fa dell'uomo un Dio ma non in senso prometeico quindi nel senso di tracotanza, assenza di limiti, assenza di morale e quindi lordasile in sostanza. ma nasce una sorta di nuova religione una nuova religione basata sulla consapevolezza di se stessi basata sulla consapevolezza della nostra natura umana e basata sul senso di responsabilità cioè agire in base al bene agire in base alla verità e imporre come valori la conoscenza del nostro mondo la conoscenza di noi stessi ecco da qua ritorna la lezione del daimon che in un certo senso non fa che dirci conosci te stesso parla con te stesso instaura un rapporto bello con te stesso bello e sano e soprattutto vivere bene insieme agli altri popoli instaurare un rapporto paritario con gli altri e agire sempre in base al bene comune quelli di Pullman sono dei valori democratici naturalmente e altrettanto naturalmente purtroppo però è stata censurata perché è stata accusata di ateismo di trasmettere dei valori negativi ai giovani quando in realtà è esattamente il contrario quella di Pullman è una trilogia fortemente antidogmatica che insegna ai ragazzi a credere non in quello che ti viene insegnato ma a fare delle domande a esplorare ad accettare il diverso di avere una mente aperta e quindi la ritengo in questo caso una delle trilogie più belle più morali che io abbia mai letto bene ragazzi la parte non spoiler termina qui nel senso che ho voluto darvi un'idea di quella che è la filosofia di fondo di queste oscure materie e soprattutto diciamo un'idea a grandi linee di quello che vi aspetta quindi una trama complessa una protagonista decisamente anticonformista la definizione di un terreno morale ambiguo dove non si confronta semplicemente il bene e il male ma varie zone grigie oltretutto il testo è come vi dicevo molto complesso perché è ricco di riferimenti simbolici ogni cosa o quasi all'interno di queste oscure materie ha un doppio significato quindi vi consiglio di prestare molta attenzione a questa trilogia che comunque rimane godibilissima dal punto di vista narrativo in particolare il mio preferito visto che me lo chiedete spesso è assolutamente la bussola d'oro anche se mi è piaciuto molto anche la lama sottile mentre ho molte cose da dire sul canocchiale d'ambra e per questo vi mando via se non l'avete letto perché nell'ultima parte di questo podcast vorrei appunto parlare in particolare del finale del capitolo conclusivo e dei motivi per cui probabilmente l'ho amato molto di meno rispetto ai primi due capitoli sperando che chi non ha letto la trilogia se ne sia andato passiamo a parlare più in maniera approfondita della trilogia questa volta facendo dei riferimenti chiari perché fino adesso ho parlato anche in maniera un pochino vaga di quello che Pullman appunto voleva trasmetterci volevo appunto iniziare da quando ho detto che questo scuro in materie ha una natura intertestuale partendo per l'appunto dal suo da suo riferimento principe il paradiso perduto di John Milton come già citato prima allora questo scuro in materie in realtà può anche essere visto come un rovesciamento del paradiso perduto un paradiso perduto rovesciato diciamo così per quale motivo perché se vi ricordate bene il nucleo fondamentale del paradiso perduto è la caduta sia la caduta di Lucifero Angelo Ribelle che appunto è stato scagliato all'inferre quindi è caduto ossia ovviamente la caduta biblica di Adamo ed Eva che hanno disobbedito a Dio e quindi in un certo senso hanno rifiutato Dio e sono stati scagliati sulla terra allora nel caso di Milton la caduta è un evento assolutamente negativo ma nel caso di Pullman invece è il contrario cioè è un assoluto esempio positivo perché il rifiuto della divinità in un certo senso ci porta a rivolgersi verso noi stessi cioè una volta rifiutato Dio è chiaro che quello che ci rimane è la nostra natura umana la nostra fallace natura umana e quindi si arriva alla consapevolezza anche in filosofia la consapevolezza non è altro che la riflessione su se stessi cioè prendere coscienza della nostra natura quindi ritorna ancora una volta il discorso che vi facevo prima quella di Pullman è un po' una religione umanista che mette al centro l'uomo l'uomo non ha più Dio e quindi deve per forza fare i conti solo con se stesso però questo non significa che l'uomo quindi è di per natura egoista e narcisista assolutamente no a partire da questo si può sviluppare una morale appunto umana non una morale quindi che è religiosa dove per religiosa si intende appunto l'adorazione di una divinità gerarchicamente posta su un livello superiore al nostro ma al contrario appunto una morale fatta anche di solidarietà cioè empatia fra esseri umani sodalizio fra esseri umani a questo proposito poi vorrei porre alla vostra attenzione un tema che spesso passa in sordina quando si parla di queste oscure materie ma che secondo me invece di primo piano c'è il tema ecologico allora è normale che la prima conseguenza della caduta dell'uomo è il fatto che non si è più in paradiso ma si è sulla terra quindi il mondo in cui si può vivere da ora in poi è soltanto la terra di conseguenza dobbiamo avere un rispetto profondissimo per il mondo in cui viviamo ecco questa è una critica forte che Pullman fa infatti quando si crea uno squarcio tra i mondi in particolare quando Lord Azriel crea il primo squarcio nel finale della bussola d'oro e quindi arriva a Cittagazze provoca nel mondo di Lyra nel suo mondo quindi anche dei cambiamenti climatici catastrofici cioè dei cambiamenti climatici che poi sono gli stessi che costringono gli orsi corazzati a dover migrare perché non possono più stare nella loro terra perché i ghiacciai si stanno sciogliendo cioè quella è una chiara denuncia alla tracotanza dell'uomo che altera l'equilibrio naturale in questo caso crea uno squarcio tra due mondi infischiandosene in un certo senso delle conseguenze e non è un caso che sia Lord Azriel a provocare tutto questo e non la Chiesa perché la Chiesa in un certo senso è conservativa in questo caso voi sapete che la Chiesa bene o male lotta per mantenere l'ordine prestabilito quindi magari è anche contraria a certe derive della scienza come per esempio la clonazione o comunque gli esperimenti che vanno verso quel senso ovviamente la Chiesa lo fa in maniera anche oscurantista magari mettendo un freno a scoperte che invece possono davvero migliorare lo stile di vita dell'uomo come per esempio non so la fecondazione assistita tuttavia non si può negare che esiste anche all'interno della comunità scientifica un gruppo uno schieramento che invece decide di agire cioè che vuole agire senza alcun vincolo né ambientale né morale pensiamo alla bomba nucleare le testate nucleari sono degli strumenti di morte perché la scienza si muove verso questa direzione perché la scienza dovrebbe essere al servizio di una cosa così terribile come la bomba come le bombe ma in generale anche pensando in un'ottica meno meno storica anche semplicemente la costruzione di manufatti tecnologici come gli smartphone come i personal computer che non rispettano l'ambiente perché sono fatti con con materiali che vengono indiscriminatamente recuperati dai fondali marini non rispettando ovviamente l'equilibrio di quei di quegli habitat gli esempi comunque se ne potrebbero fare a milioni ma in ogni caso basti pensare a livello narrativo alla figura di Lord Asriel perché Lord Asriel non solo appunto ha creato questo squarcio che ha causato cambiamenti climatici ma ricordiamo anche come ha creato questo squarcio cioè facendo quello che facevano gli ingoiatori cioè praticamente utilizzando un bambino e provocandogli l'intercisione cioè uccidendo il suo daimon separandolo dal suo daimon e provocandone quindi la morte ovviamente Lord Asriel rappresenta come ho detto prima una sorta di novello prometeo che decide di giocare a fare dio per superare la sua natura di uomo mortale il che è abbastanza comprensibile nel senso che Lord Asriel per quanto sia un personaggio negativo proprio perché non si fa scrupoli proprio perché non risponde ad alcuna morale però è comprensibile il suo tentativo di superare se stesso cioè è comprensibile il fatto che lui voglia diventare immortale in un certo senso perché questo è quello che vogliamo fare tutti tutti gli uomini sognano l'immortalità attraverso la memoria cioè quando noi costruiamo un grattacielo quando costruiamo le piramidi nel corso della storia sono tanti gli esempi che si possono fare di uomini che hanno tentato imprese grandiose perché per sconfiggere la morte banalmente e Lord Asriel vuole fare questo vuole diventare una divinità per gli uomini facendo quello che nessuno ha osato fare prima questo è un archetipo della letteratura infatti prima ho citato Prometeo ma anche il dottor Frankenstein non a caso il cui titolo il cui sottotitolo scusatemi è moderno Prometeo comunque questa idea fondamentale dell'uomo che si vuole elevare a Dio è un'idea importantissima che si ripercuote anche sul scusate che si ripresenta anche sul finale il finale che devo dire è bellissimo e mi ha fatto rivalutare il cannocchiale d'ambra che come avrete capito non mi ha convinto molto adesso poi chiarirò il motivo comunque un finale bellissimo perché cosa succede nel finale Lira e Will prendono questa sofferta e importantissima decisione di separarsi perché una regola dell'universo di Pullman è che non si può stare in mondi diversi dal proprio non si può stare in mondi diversi dal proprio perché altrimenti ci sia mala questa è un'idea geniale perché cosa ci vuole dire Pullman con questa regola dell'universo una regola che ci impone la natura ci vuole dire che non si può cambiare tutto non si può sconquassare l'universo non si può andare contro la propria natura se si è nati in un mondo si è destinati ad abitare quel mondo e il finale è bellissimo perché Lira capisce la lezione Will capisce la lezione cioè loro hanno imparato che cosa vuol dire non avere morale non avere regole distruggere tutto fregarsene perché l'hanno visto fare da Lord Asrell l'hanno visto fare dalla signora Colter l'hanno visto fare dal magisterium loro invece hanno imparato un'altra lezione hanno imparato che bisogna agire nel bene comune secondo la propria responsabilità la propria coscienza paradossalmente conservano più valori cristiani Will e Lira che la chiesa cattolica anche se ci tengo a precisare che il magisterium non è esattamente la chiesa cattolica nel senso che è chiaro l'ispirazione alla chiesa cattolica però in realtà la religione che c'è nel mondo di Pullman è molto diversa quindi è tutto metaforizzato proprio sul finale e proprio nel terzo capitolo quindi si fa avanti questa idea della repubblica dei cieli anziché il regno dei cieli anche qui abbiamo un rovesciamento di un valore della religione giudaico-cristiana no? perché repubblica dei cieli? la repubblica dei cieli è quella che noi instauriamo nel corso della nostra vita quindi non successivamente in un in un momento post-mortem ma nel corso della nostra vita umana in cui non ci sono gerarchie divine e umane ma c'è solo l'uomo l'uomo che deve stare in primis attento a non diventare lui stesso un dio quindi a non a rispettare le regole della natura a non porsi al di sopra delle altre persone quindi c'è un ideale di democrazia fortissimo nella trilogia di queste oscure materie e poi soprattutto appunto coscienza di se stessi coscienza della propria natura umana e agire nell'interesse di tutti agire nell'interesse degli altri popoli agire in sodalizio in consorzio ora la filosofia di Pullman che ho cercato di spiegarvi a grandi linee in questo approfondimento è assolutamente chiarissima molto ambiziosa e io l'ho adorata ho adorato questo concatenamento di idee che parte dalla religione che attraversa diverse religioni perché i riferimenti sono tanti non solo alla tradizione giudaico-cristiana ma anche al mondo pagano al mondo antico al politeismo c'è molto sincretismo religioso comunque si attraversa la religione per arrivare alla scienza e poi si supera anche la scienza per arrivare ad una filosofia che ha qualcosa di spirituale perché noi non siamo soltanto materia cioè quello che ci vuole dire Pullman è che la sua non è una filosofia prettamente materialistica deterministica per cui noi siamo animali sebbene animali sociali ma comunque animali e quando moriamo moriamo del tutto no la sua è una etica una morale che appunto vuole andare oltre a questo cinismo se vogliamo quindi io non penso assolutamente che la saga sia da censurare anche se siete cattolici anche se siete credenti leggetela perché comunque i messaggi che porta sono assolutamente stra-positivi non c'è assolutamente niente di offensivo in quello che propone Pullman poi è chiaro che non posso dire che questa questa serie sia non sia anticlericale perché lo è in maniera molto profonda è molto antidogmatica però io penso che si possa anche accettare un'idea diversa della propria e anzi proprio questo è uno dei capisaldi della della trilogia la convivenza vorrei dedicare gli ultimi minuti di questo podcast infinito adesso a parlare invece delle cose che non mi sono piaciute del cannocchiale d'ambra allora il mio problema principale con il cannocchiale d'ambra è che la filosofia di Pullman che come vi ho detto è una filosofia umanista non viene secondo me consegnata a lettore in maniera chiara cioè sì io poi ho fatto questo quadro interpretativo della trilogia di queste oscure materie ma ci sono arrivata faticosamente a questa a questa conclusione perché sebbene si capisca ovviamente come vi ho detto la filosofia di Pullman è chiarissima davvero però nonostante si chiarisca grandi linee dove vuole arrivare l'autore a livello narrativo non ho apprezzato assolutamente il modo in cui ci siamo arrivati perché il cannocchiale d'ambra è un libro molto debole a mio parere molto molto confuso che ha delle incongruenze gigantesche mi concentrerò in particolare su tre punti il primo è l'idea di universo che c'è nel cannocchiale d'ambra che secondo me è assolutamente in contraddizione con quello che abbiamo visto nella bussola d'oro e nella lama sottile questo è un primo una prima aria il secondo punto è il regno dei morti su cui vorrei concentrarmi perché secondo me ci sono delle cose che io non ho capito e magari voi potrete chiarirmi non lo so comunque ci sono tanti interrogativi e il terzo punto è quello dei mulefa il mondo dei mulefa ma partiamo andiamo con calma e iniziamo dal primo punto l'universo allora nella trilogia di questo oscuro e materia almeno nei primi due volumi viene detto che esistono più mondi e questi mondi sono paralleli paralleli cosa significa che sono tutti sullo stesso piano quindi l'universo l'idea di universo è orizzontale cioè tutti i mondi sono diciamo in maniera banale e approssimativa uno accanto all'altro questa concezione è ampiamente confermata dall'utilizzo della lama sottile infatti Will apre i mondi apre scusate i varchi tra i mondi in maniera tale che se sei nelle fogne per esempio vuoi aprire uno squarcio per entrare in un altro mondo ti ritroverai nelle fogne ipotetiche dell'altro mondo questo per dirci che cosa che è tutto alla nostra altezza cioè scusate che è tutto alla stessa altezza quindi l'idea appunto di universo è orizzontale nel cannocchia e d'ambre invece vengono introdotti due mondi che sembrano contraddire completamente quest'idea ovvero il regno dei cieli e il regno dei morti allora il regno dei cieli sappiamo che è la dimora dove sta questa autorità che sarebbe appunto Dio che poi in realtà non è Dio perché noi sappiamo che è un angelo ma su questo punto torneremo dopo comunque lui vive là allora l'idea di questo regno dei cieli sinceramente l'ho trovata molto molto strana perché si intende che il regno dei cieli sta sopra tutti gli altri mondi e il regno dei morti invece sta sotto ora noi dobbiamo presupporre che il regno dei cieli stia sopra innanzitutto perché è detto così cioè viene detto esplicitamente così viene detto anche cioè viene anche suggerito dal fatto che gli angeli calano sempre dall'alto e viaggiano nel cielo quindi è chiaro che sta su inoltre perché noi pensiamo che il regno dei cieli stia su perché pare è che la divinità l'autorità abbia un'influenza su tutti i mondi ora per avere un'influenza su tutti i mondi è chiaro che tu devi attraversare in un certo senso tutti i mondi e quindi c'è questa idea di questo regno dei cieli che sta sopra tutto perché la divinità sta sopra tutto e poi abbiamo l'idea del regno dei morti che sta giù ora che sta giù noi lo sappiamo perché perché quando loro provano ad uscire dal regno dei morti usando ancora una volta la lama sottile non riescono perché effettivamente incontrano solo terra proprio perché si intende che sono sotto terra a parte che qua c'è un problema narrativo enorme perché se il regno dei morti sta sotto significa che sotto i mondi c'è solo il regno dei morti quindi non si potrebbe neanche aprire uno squarcio verso un altro mondo perché qualcosa che sta sotto e qualcosa che sta sopra devono essere necessariamente infiniti o comunque tanto grandi quanto sono gli altri mondi non so se si capisce il mio ragionamento comunque diciamo che se c'è un piano in cui i mondi sono paralleli poi c'è un piano superiore poi c'è un piano inferiore è chiaro che non è che ci possono essere altrettanti mondi inferiori soprattutto perché poi nel regno dei morti non è che ci vanno soltanto i morti di un mondo ma ci vanno tutti i mondi di tutti i mondi possibili scusate per la ripetizione ossessiva della parola mondo ma spero di essermi fatta capire ora se tutti i morti vanno tutti nello stesso mondo dopo la morte significa che come il regno dei cieli anche il regno dei morti si estende su tutti i mondi o comunque ha un'influenza sta sotto dite come volete su tutti i mondi per cui Will non potrebbe aprire uno squarcio perché al semmai potrebbe aprire uno squarcio ma sopra non sotto perché ai lati del regno dei morti non ci dovrebbe essere nulla ci dovrebbe essere solo il regno dei morti comunque a parte questo mind fuck veramente incredibile c'è un altro problema ben più grave ovvero se tu hai suggerito l'idea di un universo orizzontale questa idea invece del regno dei morti e del regno dei cieli è in totale contraddizione perché in questo caso si suggerisce l'idea di un universo verticale allora io lo so perché lui ha creato il regno dei morti e il regno dei cieli perché voleva in un certo senso rappresentare la morte di dio e la liberazione dei morti peraltro a me è piaciuta l'idea narrativa che sta dietro il regno dei morti cioè il fatto che l'ira e will arrivino per liberarli perché cosa significa secondo me Pullman voleva in un certo senso metaforizzare il ritorno della materia alla materia cioè il fatto che quando moriamo non moriamo davvero perché il nostro corpo verrà in un certo senso restituito al terreno e dal terreno si rigenererà altra vita è un concetto molto bello però il modo in cui è stato trattato per me è molto deludente perché è molto confuso perché se lui voleva raccontarci della materia che ritorna alla materia non dovrebbe utilizzare tutta una serie di termini che invece sono stati utilizzati come per esempio lo spirito perché nel regno dei morti c'è un altro problema ancora più grande cioè il fatto che si scopre che il daimon alla fine non era l'anima perché se fosse stata l'anima ci dovrebbero essere solo daimon nel regno dei morti perché di certi corpi non ci sono nel regno dei morti perché se sei morto è chiaro che il corpo è rimasto nel tuo mondo quello che viaggia è qualcosa di incorporeo come appunto l'anima invece nel regno dei morti si parla di spirito tant'è vero che il pantalaimon che è il daimon di l'ira non può seguirla e lui e lei è costretto ad abbandonarlo quindi praticamente c'è una strana separazione tra anima spirito e corpo che francamente non solo non è stata spiegata ma è anche un'idea piuttosto ridicola perché quanta gente c'è dentro di te mi sembra che ci siano un po' troppe persone no? cioè il regno dei morti è popolato da spiriti le anime allora cosa sono i daimon cos'era? non lo so c'è qualcosa che non funziona molte cose non sono state spiegate e questo è un grande buco di trama ora io capisco che Pullman in un certo senso è stato obbligato a parlare di spiriti prima di tutto per distinguerli dai daimon perché doveva appunto avvenire questa separazione tra il daimon nell'ira e d'altra parte non è che poteva cioè come faceva a raffigurare tutto questo discorso sulla morte se non attraverso gli spiriti perché se il corpo è solo corpo ovviamente nel regno dei morti non ci dovrebbe essere nessuno è chiaro però anche qui non si può sacrificare la credibilità del racconto per quello che ci vuoi dire tu è vero che l'idea di cielo cioè paradiso e inferno ci viene appunto dalla nostra esperienza è uno schema mentale a cui noi siamo abituati ma l'astrofisica ci dimostra che in realtà non c'è un sopra o un sotto ci sono degli oggetti immersi in uno spazio materia che deforma lo spazio circostante comunque appunto io amavo quest'idea dell'universo come orizzontale quindi questa cosa del regno dei cieli e del regno dei morti sinceramente mi ha dato molto fastidio perché va a contraddire questo ma in aggiunta a tutto a tutto ciò ancora una volta ci sono delle domande senza risposta per esempio prima ho chiesto come mai Dio avesse messo tutti i morti nel regno dei morti perché si vuole vendicare visto che il regno dei morti non è una cosa molto bella no cioè non non si capisce l'influenza che questa divinità ha sul mondo tant'è vero che non si capisce in realtà neanche perché Lord Asriel voglia ucciderlo cioè è più una questione di principio ma non è che si capisce perfettamente che tipo di influenza questa divinità ha sui mondi per lo più se si tiene in considerazione il fatto che appunto il regno dei cieli sta sopra tutti i mondi quindi in teoria dovrebbe avere un'influenza su tutti i mondi dovrebbe avere un potere incredibile poi in realtà non ce l'ha e non si capisce neanche a che cosa serva una creazione del genere un personaggio del genere attenzione che per autorità intendo sia sia Dio il Dio che ha creato Pullman sia Metatron perché poi tanto alla fine sono voglio dire quasi la stessa cosa ma poi voglio dire se esiste effettivamente questa divinità questa autorità questo regno dei cieli che si pone al di sopra degli altri mondi e che ha influenza su tutti i mondi allora in un certo senso la divinità scusatemi ma è in parte legittimata cioè non capisco perché se effettivamente c'è un regno dei cieli al di sopra di tutti i mondi e che ha influenza su tutti i mondi non capisco perché a questo punto non ci dovrebbe essere una divinità cioè un conto è che la divinità non esiste ed è tutta una bugia e allora in quel caso si giustificherebbe tutto ma se esiste cioè se effettivamente c'è questo essere superiore che sia la divinità o che sia Metatron cioè l'angelo che regna al posto di Dio se esiste vorrà pur dire qualcosa no? ora magari mi sto impellagando in un ragionamento senza sbocco però voglio dire secondo me l'esistenza di un regno dei cieli va a minare in parte il ragionamento di Pullman mi dispiace ma è così cioè se tu vuoi costruire la repubblica dei cieli o crei un regno dei cieli malvagio molto più malvagio molto più tangibile soprattutto rispetto a quello che hai creato tu perché sinceramente noi non capiamo niente di Metatron noi non capiamo niente della divinità non hanno azione non fanno niente cioè sono presenti nel romanzo solo come simboli e questo purtroppo a livello narrativo non funziona e crea un sacco di confusione prendiamo per esempio gli angeli gli angeli sono stati creati e di questo sono sicura unicamente per dirci ancora una volta il contrario di quello che voleva dirci John Milton nel paradiso perduto cioè nel paradiso perduto vabbè così come nella Bibbia noi sappiamo che Lucifero è l'angelo che si è ribellato ed è stato scagliato all'inferno ecco invece nella trilogia di queste oscure materie che cosa scopriamo? che in realtà è Dio che è un angelo che pensava di essere Dio ecco cioè questa è la favoletta ci può anche stare bella idea però a livello narrativo mi spiegate cosa fanno gli angeli in questo romanzo dovrebbero avere dei super poteri in realtà sono deboli non li usano quasi mai sti poteri non hanno quasi ragione di esistere non si capiscono mai i loro spostamenti io non capisco perché l'angelo che viaggia con Will non dovrebbe essere in grado di viaggiare tra i mondi anche senza l'aiuto di Will invece in tantissime occasioni è Will che gli fornisce la via di fuga loro si spostano solo grazie al coltello in generale tutti gli spostamenti del cannocchiale d'ambra secondo me sono un bordello non si capisce tante volte come si arriva da un punto ad un altro le scene d'azione sono molto 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 confuse comunque diciamo che questo aspetto religioso quindi queste due macro aree che ho voluto approfondire il regno dei cieli e il regno dei morti per me sono il punto più debole di tutto il romanzo del cannocchiale d'ambra è veramente un gran macello forse troppa carne al fuoco cioè non so spiegare esattamente cosa non ha funzionato però proprio manca un po' di credibilità il tutto cioè ci sono troppe cose che non quadrano non si capisce il ruolo di questa divinità non si capisce l'esistenza del regno dei cieli ma anche lo stesso regno dei morti sicuramente è un'idea affascinante però non funziona c'è qualcosa che non quadra è incongruente tutto infine ultimo punto debole secondo me del cannocchiale d'ambra il mondo dei mulefa allora anche qui io capisco che vogliamo creare una favola ecologista come ho detto prima il tema ecologico è molto importante all'interno della narrazione però restituircelo così per me è un peccato mortale perché Pullman che cosa ha fatto Pullman ha creato un mondo popolato da queste creature i mulefa che primo problema hanno un aspetto ridicolo cioè questi hanno le rotelle la struttura all'osanga le proboscidi certo ma scusate come hanno fatto con questo aspetto a creare una civiltà simile a quella umana perché loro sono organizzati a livello sociale in maniera sì ok primitiva nel senso che sono organizzati in villaggi però comunque è assolutamente un'ispirazione umana parlano tra di loro cioè chiaramente sono degli umani con un aspetto diverso in sostanza c'è un conte se loro avessero creato una civiltà molto diversa quasi aliena ma se tu mi proponi un tipo di organizzazione sociale molto simile a quella umana mi aspetto un po' di realismo perché sinceramente che questa gente con le proboscidi e senza mani senza pollici opponibili siano riusciti a creare delle reti per andare a pesca cioè adesso non mi ricordo c'è una scena in cui stanno tessendo delle cose con le proboscidi non mi ricordo se erano delle reti o qualcos'altro ma ci possiamo mai credere io non sto dicendo che deve essere realistico al cento per cento perché lo so che ovviamente è una cosa di immaginazione però deve essere credibile questa cosa che questi qua tessano le cose con le proboscidi a parte che fa pisciare dalle risate mi dispiace ma poi anche stupida per non parlare del fatto che ci sono forse anche dei problemi di traduzione non lo so comunque questi qua questi esseri sono descritti con dei termini secondo me troppo tecnici che non danno per niente un'idea romantica e un'idea bella di popolo cioè per esempio il fatto anche qui cioè la loro struttura fisica venga definita all'osanga non lo so sembra che stai descrivendo un materasso le doghe di un materasso una figura geometrica cioè non rende per niente la descrizione di un corpo e inoltre ci sono anche altri termini francamente patetici come per esempio le capsule da semi cioè ma come volete che un lettore si appassioni ad una cosa del genere tutta questa idea delle ruote dell'olio di semi cioè non lo so sembra non lo so la descrizione di un procedimento agricolo che francamente allontana indispettisce e personalmente stizzisce il lettore io capisco che Pullman abbia voluto creare appunto come ho detto prima questa favola ecologica in cui appunto c'è questo popolo che vive in perfetta armonia con la natura e pacificamente e tutto però anche qui a livello narrativo non regge perché è noiosissimo questi sono degli esseri buonisti che non hanno conflitto che non hanno niente l'unica cosa che hanno è il pericolo perché ogni tanto arrivano gli pterodattili perché poi anche qua sembra l'albero azzurro che incontra Jurassic Park cioè c'è qualcosa che non va c'è qualcosa che non funziona è veramente quasi stupido veramente quasi ridicolo e soprattutto è poco interessante è veramente molto poco interessante perché è prevedibile al contrario invece di tutta l'altra trilogia cioè se noi paragoniamo il cannocchiere d'ambra alla bussola d'oro non c'è assolutamente paragone perché il cannocchiere d'ambra potrà avere anche una spinta spirituale maggiore un livello mistico maggiore ma forse questo è il problema che si è fatta troppa confusione fra simboli religiosi misticismo favola ecologista cioè c'è un po' troppo e purtroppo questi elementi non stanno bene insieme perché prima ho detto che il sincretismo forse è una delle qualità maggiori di questa trilogia e forse nel cannocchiere d'ambra però si è esagerato perché manca di coerenza ci sono troppi elementi che stonano si riprende molto sul finale che come vi ho detto invece è la degna matura e conclusione di una storia dall'elevata morale e che sicuramente è di ispirazione peccato però perché ci sono troppi problemi secondo me nel cannocchiere d'ambra che non hanno reso godibile la lettura come invece è molto godibile nella bussera d'oro e nella lama sottile bene ragazzi il podcast finisce qui è durato veramente molto però mi faceva piacere parlare in maniera davvero approfondita di questa trilogia darvi quindi la mia idea è la mia interpretazione spero di non avervi annoiato troppo fatemi sapere nei commenti se avete delle spiegazioni da darmi delle delucidazioni se ho detto qualcosa di scorretto forse è abbastanza probabile perché appunto il cannocchiere d'ambra io ammetto candidamente di non averlo capito a fondo probabilmente proprio perché mi innervosiva molto leggerlo io come al solito vi lascio qui sotto tutti i miei contatti social se volete seguirmi in altri meravigliosi luoghi di internet e vi lascio qui sotto anche i link di affiliazione sia Amazon sia ABS nel caso vogliate comprare la trilogia e iniziare a leggerla io ricevo una piccola commissione sul vostro acquisto vi lascio qui sotto anche la pagina coffee nel caso vogliate supportare il mio lavoro qui su YouTube potete offrirmi infatti un simbolico caffè tramite Paypal grazie mille per iscritti e commenti un bacione a voi e le vostre mamme e ci vediamo al prossimo video o in questo caso al prossimo podcast ciao